Musica Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari. Lo stadio non possiede l'agibilità e quindi non si possono disputare partite. Questa è la denuncia del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Pasquale Finocchio. Noi ne abbiamo parlato con il presidente della FC Bari 1908 Gianluca Paparesta. A margine poi del nostro servizio uno stralcio dell'intervento del presidente che ha risposto a muso duro l'articolo pubblicato da Dago Spia sulla presenza del presidente della Lazio Lotito nella proprietà del Bari. Sentiamo. Lo stadio San Nicola riapre i baresi senza legibilità. E' l'oggetto questo dell'interrogazione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Pasquale Finocchio che denuncia e da tempo la totale mancanza di atti che permettano il normale svolgimento delle partite. L'agibilità che al suo interno comprende il CPI certificato di prevenzione incendi rientra nella manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della società biancorossa. Secondo Finocchio che già preannuncia una conferenza stampa sul tema la totale assenza del pezzo di carta non dovrebbe permettere assolutamente il normale svolgimento delle partite di calcio lamentando anche la mancata sorveglianza della nuova amministrazione sulla riapertura al pubblico dello stadio dopo il passaggio di proprietà. Noi ne abbiamo parlato con il presidente della FC Bari 1908 Gianluca Paparessa. Ieri interrogazione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Pasquale Finocchio che chiede come mai ancora non c'è il certificato di agibilità per lo stadio San Nicola quello che volgarmente viene chiamato agibilità ma in realtà il certificato di prevenzione incendi nonostante sia già stata giocata la prima partita del Bari. E le altre partite? Noi stiamo facendo tutto quello, stiamo ponendo in essere anche una serie di lavori che chiaramente vanno nell'ottica di rendere non solo agibile ma funzionale questo stadio con degli oneri che probabilmente il consigliere Finocchio non sa che erano e dovevano essere a carico di altri ma questa società che è nata due mesi fa è chiaro che il mondo del calcio offre della possibilità di farsi pubblicità. C'è stata una commissione di vigilanza che ha dato delle previsioni da realizzare entro un determinato termine e noi entro quel termine stiamo realizzando tutti. Abbiamo presentato la SCIA che è la comunicazione dell'inizio dei lavori cioè tutto quello che da un punto di vista amministrativo doveva essere fatto è stato fatto. Siccome vedo che avete dato grande rilevanza all'articolo pubblicato su un sito rendendolo così importante vi dico che allo stesso modo rispondo che io finché ci sarò io finché potrò portare avanti questo progetto non consentirò a nessuno di intaccare questo progetto. Ci sono realtà importanti locali è una di cui è qui a fianco a me che ci sta supportando da un punto di vista commerciale e stiamo valutando se anche da un punto di vista societario e come questa realtà altre realtà se garantiranno il bene di questa società potranno entrare perché ci sarà bisogno di entrare. In questo momento noi siamo in grado di andare avanti da soli e se io non sono libero, se qualcuno pensa che non sono libero di andare a cena con il presidente di una squadra che è tra le prime in Italia che è una società quotata, che è un consigliere federale e che sono onorato che mi inviti a cena o che possa andare a cena con lui ha capito male. E l'intero intervento del presidente Gianluca Paparesta lo trasmetteremo subito dopo il nostro telegiornale nel TV Sport. Ma voltiamo pagina, la procura di Bari ha aperto un fascicolo sulla vicenda dell'ex convento di Santa Chiara occupato da circa 200 migranti nello scorso mese di febbraio. I PM Renato Nitti e Anna Maria Tosto hanno delegato i carabinieri del NAS che hanno svolto un primo sopralluogo per accertare le condizioni di sicurezza oltre che quelle igienico-sanitarie della struttura. Nel seminterrato dell'ex convento c'era l'archivio dei disegni storici e dei rilievi della soprintendenza ai beni architettonici. La procura indaga per occupazione abusiva ma l'attività investigativa potrebbe accertare anche le condizioni del complesso architettonico prima dell'occupazione anche per capire come l'ingresso alla struttura fosse stato lasciato libero nonostante i lavori di restauro fossero rimasti incompiuti. E continua il viaggio di telebari nei campi rom della città. Gli interventi della Polizia Municipale hanno permesso di individuare numerose irregolarità ma nonostante tutte le baraccopoli continuano a rappresentare un disagio per i baresi soprattutto per coloro che abitano a ridosso di questi insediamenti. Vediamo perché in questo servizio di Cristina Ferrini. Oltre 20 campi rom individuati a Bari dalla zona dell'hotel Majestic in direzione San Giorgio al tratto di lungomare di Cagno a Brescia in strada Cannone è il risultato di un recente censimento delle baraccopoli rom degli uomini della sezione di Polizia Giudiziaria dei vigili urbani all'interno degli insediamenti quasi tutti abusivi si trova di tutto condizioni igienico-sanitarie disastrose cave di rame rubati e pneumatici rifiuti di ogni genere materassi e poltrone sventrati per non parlare degli allacciamenti illegali per procurarsi l'energia elettrica mentre su quasi tutte le baraccopoli sono allestite parabole satellitari in particolare sul campo che si affaccia sul lungomare di Cagno a Brescia in passato al centro della cronaca per le numerose denunce dei residenti del luogo continua il via vai di prostitute che trovano accoglienza nelle baraccopoli in totale degrado le zone limitrofe rifiuti di ogni genere oggetti vecchi strutture in ferro utili a bruciare guaine protettive dei cavi in rame per recuperarne materiale utile alla vendita sul mercato nero una verifica da parte della Polizia Municipale è stata fatta anche sulle condizioni di vita dei bambini di giorno costretti ad elemosinare molti non vanno a scuola tanti non sono ancora vaccinati e intanto ci si interroga ancora sul perché insediamenti rom che dovrebbero essere provvisori alla fine diventano stanziali nonostante le decine di esposti alle forze dell'ordine da parte di cittadini stanchi di sopportare scene di degrado che si presentano davanti ai loro occhi quotidianamente e adesso invece ci spostiamo nel quartiere Santa Rita dove da mesi si ripetono episodi criminosi che ancora una volta mostrano la palese situazione di insicurezza delle nostre periferie la denuncia questa volta parte dal comitato cittadino strada sì sentito per noi da Roberto Maggi appartamenti isolati collegamenti scarsi e un clima generale di insicurezza ci troviamo al quartiere Santa Rita dove da mesi si ripetono episodi che passano dal vandalismo puro e semplice alla commissione di furti predatori uno stato di abbandono facilmente riscontrabile dalle condizioni del parchetto comunale primo di un controllo costante che testimonia l'assenza di forze di pubblica sicurezza numerose le denunce per autodanneggiate furti in appartamento e persino nei box dei garage ciò che più colpisce è la serialità con cui si ripetono certi episodi colpendo di volta in volta aree o luoghi ben individuati quasi a far pensare ad una strategia premeditata da parte degli autori a denunciare la situazione è Paolo Agresti referente del comitato di cittadini strada sì in questa settimana abbiamo avuto diversi furti sia negli appartamenti ma anche nelle auto danneggiamenti finestrini rotti cofani rubati quindi insomma un po' di tutto quello che noi chiediamo appunto è un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine da parte del comitato più volte sono giunte segnalazioni di questo tipo la situazione è infatti ricollegabile anche se solo indirettamente al parziale isolamento del quartiere da Carbonara che rende più difficile lo sviluppo di una qualsivoglia attività che ravvivi un centro esclusivamente residenziale abbiamo il problema della viabilità non abbiamo collegamento con il resto della città abbiamo giusto una strada che attraversa il canalone che a breve probabilmente verrà chiusa e insomma ci ritroveremo anche isolati dal resto di Bari della città e siamo alla cronaca un uomo di 43 anni Antonio Manzari è stato arrestato dai carabinieri perché è ritenuto responsabile di aver ferito ad una gamba con un colpo di arma da fuoco il nipote di 20 anni per dissidi familiari l'agguato è avvenuto ieri mattina a Noicattaro in via Oberdan lo zio della vittima residente a Trigiano è stato individuato dai carabinieri grazie ad alcune testimonianze che hanno indicato lo scooter su cui l'uomo era fuggito dopo aver sparato secondo quanto ricostruito dai militari che hanno ascoltato il racconto del ragazzo i due parenti avrebbero avuto un diverbio durante il pranzo di Ferragosto sarebbe stata questa la molla che ha scatenato l'ira e cambiamo argomento la serrata dei negozi di generi alimentari nella settimana di Ferragosto non ha fermato la corsa alla spesa e soprattutto al risparmio mercati ortofrutticoli presi d'assalto dai baresi costretti a fare i conti con il portafogli vediamo fare una lista attenta e dettagliata della spesa quotidiana ed imporsi di rispettarla bisogna fare così se si vuol far quadrare il bilancio domestico della settimana ne sono convinti i baresi che attenti al risparmio in un periodo di crisi come questo preferiscono acquistare frutta e verdura e pesce al mercato piuttosto che nei negozi o nei supermercati laddove la tentazione di riempire il carrello di cose pressoché inutili è inevitabile nei mercati c'è un discorso che uno prende il carrello trova il scaffale e riempie arriva la cassa dopo e si trova con la sua messaggera oh mamma mia quanto speso nei mercati invece uno acquista il necessario quello che serve il risparmio c'è c'è il risparmio sì sì perché in supermercati c'è il costo per i supermercati e di più il costo il risparmio c'è su quale alimento ha notato più risparmio al mercato sulla frutta soprattutto lei trova il risparmio convenienza nei mercati secondo me sì nel mercato sì perché nei supermercati i prezzi sono molto esagerati quindi io sinceramente faccio la spesa ai mercati io lo trovo qua il risparmio perché ho degli amici e trovo il risparmio ma quanto si risparmia facendo la spesa al mercato secondo un'indagine Codacons si spende il 27% e meno rispetto ai grandi centri commerciali soprattutto sui generi alimentari come frutta e verdura un dato che sembra essere confermato dalla voce diretta di chi la spesa la fa tutti i giorni e deve regolarsi con il portafogli quanto pensa di risparmiare più o meno in percentuale a settimana massimo una decina di euro non di più sì quanto pensa di risparmiare settimanalmente venendo qui al mercato beh parecchio parecchio a settimana calcolando che io faccio la spesa tutti i giorni quindi non faccio un calcolo settimanale però il risparmio c'è sulla frutta diciamo che nei suoi mercati il prezzo è non dico il doppio ma quasi anche 5-6 euro dipende da quello che uno acquista e dalla stagione naturalmente è importante su un bilancio familiare come no sul bilancio quotidiano settimanale mensile e poi e parliamo nuovamente di calcio affiliare le società sportive in un'unica accademia nel nome dei colori biancorossi e questo è il progetto presentato questa mattina nella sala stampa dello stadio San Nicola vediamo fidelizzare i ragazzi i colori biancorossi valorizzando il settore giovanile è l'obiettivo di FC Bari 1908 Academy il progetto nato ed ideato dalla neonata società per ottimizzare e radicare sempre più al territorio e non solo la formazione calcistica di coloro che già inseguono il sogno all'interno delle numerose società sportive affiliarle sotto questo unico obiettivo è marchio già questa mattina in conferenza stampa se ne contavano una ventina l'Accademia che sarà divisa in due settori aria agonistica e attività di base mira a crescere giovani di qualità da poter utilizzare perché no un domani nella prima squadra cittadina a spiegare i dettagli del progetto Marcello Sansonetti responsabile dell'Accademy lo faremo dando qualità alle società alle Accademy che si stanno affiliando già di per sé sono ottime società gloriose negli anni vediamo c'è una di Brindisi la Ceda Savio storica la Matteola di Matera e altre società del territorio queste saranno da noi fidelizzate a fare un progetto didattico e a condividere un progetto didattico qui sul campo al San Nicola dove verranno fatte con lo nostro staff tecnico supervisionato dal staff della prima squadra dei raduni tecnici dove si svilupperanno e si concorderanno degli obiettivi tecnico motorio tattico coordinativo e tecnico motorio e siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore cielo sereno temperature comprese tra i 28 e i 32 gradi venti moderati e mari poco mossi in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net info chiocciola segnodizorro.it ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale a più tardi con l'informazione di Telebari a più tardi